Chiude l'Hub vaccinale di Pescara, Adricesta sempre a fianco di chi si adopera per garantire sicurezza, per far stare bene le persone, per la salute. Li ringrazia? Sì, abbiamo scelto con i soci e i volontari di poter dire un grazie a tutte le istituzioni, le autorità, i volontari, tanti che in un modo o nell'altro hanno contribuito al benessere di tutti i cittadini, a dimostrazione che veramente una civiltà etica deve andare verso l'aiuto per il prossimo. Tanti si sono adoperati e con gli infermieri del centro vaccinale, grazie anche a Maria Luisa Morretti, al dottor Di Luzio che è il coordinatore provinciale del centro vaccinale di Pescara. Abbiamo scelto di fare questo incontro, questo brindisi per tutte le istituzioni, in primis anche il comune che per primo si è adoperato per questo grandissimo centro che è veramente un esempio di organizzazione, di dedizione, di cortesia, gentilezza e professionalità. Quindi un grazie grande a tutto il comune e personale di Pescara, la stessa cosa a tutti gli operatori della ASL di Pescara e non voglio dimenticare però anche la questura di Pescara che ha aperto un centro vaccinale della Polizia di Stato presso la scuola del territorio, quindi ci sarà un ringraziamento anche per loro. Perché tutti si sono uniti in una grande squadra come noi scriviamo nelle targhe di cordo, una grande squadra per lavorare bene deve avere un unico cuore e solo così si riesce a vincere e dobbiamo farcela. Quindi per chi si è adoperato tanto per tutta la comunità era doveroso quasi una festa e un brindisi e una targa di ricordo. E quale occasione meglio di questa, della chiusura di questo grande centro vaccinale e anche di buon auspicio per le prossime vaccinazioni che avranno luogo probabilmente con le terze e quarte dosi, non lo sappiamo ancora. Però uniti ce la faremo sempre.